Come previsto, è arrivata la neve anche sull'Abruzzo. Traffico e rallentamenti sono stati segnalati fin dalle prime ore del mattino sulle strade provinciali e su alcuni tratti autostradali. Neve e mezzi spargisale sono in azione dalle prime luci dell'alba anche sui tratti abruzzesi dell'autostrada. A causa del manto nevoso è stata chiusa la strada statale 17 bis della funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore. Sul resto della statale 17 sono obbligatorie le catene da neve. Nella zona di Sulmona, la strada statale che conduce a Pettorano, Sulgizio, è chiusa a causa di una frana. Problemi di viabilità sono stati segnalati anche nella zona di Caramanico Terme. Dieci mezzi spazzaneve e spargisale sono in azione anche nel Chietino, dove si registrano i maggiori disagi. 30 cm di neve sono caduti nella zona di Guardia Grele, dove il traffico però è regolare. Lanciano è una delle città più colpite dall'ondata di maltempo con il manto bianco che, in alcune zone del capoluogo frentano, è arrivato a quasi 50 cm di altezza. A causa delle strade rese viscide dalla neve, tre camion sono rimasti bloccati sulla variante nei pressi di due centri commerciali alle porte di Lanciano. Mezzi pesanti e fermi anche nell'area di confine tra Ateleta e Sant'Angelo del Pesco. Transitabilità assicurata su tutti i 350 km della rete viaria provinciale Teramana, grazie al piano neve in azione dalla mezzanotte. I comprensori di media alta montagna hanno a disposizione 36 mezzi spallaneve, mentre altri 42 sono assicurati da imprese reperibili in caso di necessità.